È tornata sull'isola per il matrimonio del suo migliore amico. Com'è andato il viaggio da Los Angeles? Ero sicuro che saresti tornata da me. Siete stati amici per tanti anni. Almeno una volta l'avrete fatto. Ma questo viaggio... Papà! ...non è una festa. John Wakefield uccise sei persone. Per favore, aiutatemi! Sono venuta qui per dirti la verità. John Wakefield è morto. Allora perché io continuo a vederlo? Harper's Island. Dal 14 gennaio. Su Fox. Grazie a tutti.